Prende la parola il Ministro dell'Interno, Consigliere di Stato Luciana Lamorgese. Tutti, consentitemi prima di dare avvio a questo breve intervento un pensiero per il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, che ci ha lasciato e che lascia davvero un voto importante. Parliamo di una persona che ha saputo guidare con grande professionalità l'istituzione che gli era stata affidata, ma non rinunciando mai al suo tratto personale, un tratto di garbo, quel sorriso che non ha fatto mai mancare e soprattutto non mancando mai di esprimere le sue idee anche laddove potevano comportare contrapposizioni e quindi davvero ci mancherà, ci mancherà un uomo delle istituzioni, ci mancherà un amico. Signor Presidente della Camera, signora Ministra Cartabia, professoressa Paola Severino, grazie per aver voluto oggi essere qui presenti. Un pensiero a un saluto ai vertici delle forze di polizia con cui c'è un rapporto continuo e così per a tutti un saluto a tutte le autorità e ai gentili ospiti. Oggi non solo, vorrei anche ringraziare il generale Lagala che oggi ci ha consentito di essere qua in tanti all'inaugurazione dell'anno accademico del 37esimo corso di formazione. L'inizio di un percorso di altistudi è sempre un momento sacrale perché è sacra la conoscenza che ci permette di accrescerci, di crescere sul piano individuale ma anche e soprattutto sul piano comunitario. La cultura ci dischiude nuovi approcci e strategie di fronte ad uno scenario anche internazionale soprattutto internazionale oggi perché dobbiamo vedere le nostre posizioni che devono essere sempre portate anche in Europa per avere una strategia nazionale ma che abbia riscontro negli altri paesi perché questo è il senso dell'Europa questo è il senso dell'Europa che io cerco di portare sempre in tutte le sedi internazionali per tanti problemi che ci riguardano ad iniziare dal problema di terrorismo all'immigrazione e così tanti altri aspetti che toccano l'amministrazione dell'interno e toccano il nostro paese e quindi è un momento particolarmente significativo anche perché questa non è una scuola come le altre è la casa comune delle forze di polizia, di quelle forze che sono al servizio del paese a difesa della Costituzione e delle istituzioni democratiche in questa sede nella formazione dell'alta dirigenza delle nostre forze di polizia la cultura si coniuga con l'etica delle funzioni e allora proprio in relazione a questo vorrei ricordare in questa sala la figura del prefetto Carlo Mosca a cui è intitolata l'aula, l'auditorium egli è stato portatore di un'idea che condivido appieno di fare amministrazione portando una forte attenzione ai valori della cultura e dell'etica del servizio pubblico entrambi necessari per interpretare correttamente contesti di riferimento e agire nella prospettiva della coesione sociale nel patrimonio valoriale della scuola sta dunque la difesa delle libertà delle libertà di tutti per assicurare il pacifico svolgimento della vita democratica valore tanto più sentito oggi in quanto noi sappiamo e si parla spesso di quelle che sono secondo alcuni delle limitazioni delle libertà personali e quindi vorrei dire che in effetti uno Stato democratico cosa deve fare? deve consentire l'esercizio dei diritti democratici ma c'è sempre la necessità di garantire un bilanciamento dei diritti ed è quello che noi abbiamo cercato di fare in questo periodo difficile di pandemia che ha visto le forze di polizia impegnate su tanti fronti e che quindi io ringrazio ancora oggi per l'intensa proficua attività che ogni giorno quotidianamente portano avanti ma vi è di più è una scuola che nel rispetto delle specificità delle singole forze di polizia costruisce una identità fondamentale condivisa nella consapevolezza che esse sono avvinte ad una missione unitaria che è il bene comune è questo contemperamento di diversità e unità che rende il nostro sistema plurale di polizia efficiente nelle sue specialità è compatto nel perseguimento dell'interesse generale la formula di sintesi di questa articolata realtà è il coordinamento che consente ad entità distinte di condividere un metodo di lavoro di sincronizzare i propri obiettivi di riconoscersi in termini di paternish un principio quello del coordinamento che non è circoscritto al settore della sicurezza pubblica ma che si declina in generale nelle funzioni dello Stato e nei rapporti di questo con le regioni e con gli enti locali il coordinamento e la cultura del costruire insieme le risposte rimane l'antidono migliore al pericolo di improduttiva frammentazione mai come oggi lo dicevo prima nella difficile gestione della pandemia che ha richiesto uno sforzo unitario al nostro paese il coordinamento si è rivelato la chiave di volta della nostra architettura ordinamentale sono in primis le istituzioni in senso generale che devono orientarsi unite verso le nuove sfide del futuro ma in questa direzione esse come d'altra parte ha ricordato anche il Presidente della Repubblica devono preservare legame essenziale in democrazia che esiste tra istituzioni e società che tuttavia non potrebbe resistere senza il sostegno proveniente dal cittadino solo la grande fiducia che le persone hanno riposto nelle nostre amministrazioni amministrazioni sanitarie di pubblica sicurezza amministrazioni locali ci ha consentito di guidare una comunità smarrita di fronte a un pericolo inedito e quanto mai insidioso se ne è avuta anche l'ennesima prova in occasione di imponenti attività di polizia dispiegate nel corso di questa emergenza laddove il sistema nazionale di sicurezza ha dato fondo alle energie necessarie per controllare circa 60 milioni di persone e più di 12 milioni di esercizi commerciali mi piace dirlo perché più volte una stampa che non dà conto di quello che invece effettivamente viene fatto mette in dubbio o quantomeno ritiene che i controlli non siano stati all'altezza della situazione io non credo proprio perché abbiamo fatto il massimo il massimo con grande spirito di sacrificio ma anche con quel senso di umanità che le forze di polizia hanno mostrato e dimostrato di avere in questo lungo periodo e sono trascorsi circa due anni è cruciale anche in questo frangente il ruolo della classe dirigente e come ha osservato la professoressa Severino davvero che ringrazio per la straordinaria prolusione è proprio nella sfera delle decisioni pubbliche che risiede la chiave per rinsaldare l'unità del paese e per corrispondere ai grandi mutamenti che stiamo vivendo condivido pienamente con la professoressa Severino anche che l'elemento importante è la grande sfida del valore e del merito ed è una sfida che noi dobbiamo vincere assolutamente se vogliamo essere al passo coi tempi e in grado di affrontare tutti i problemi che quotidianamente abbiamo anche rapportandoci con le istituzioni europee e quindi quando si dice dobbiamo investire sulle persone verissimo bisogna investire sulle persone bisogna dare alle persone il senso di una comunità il comunità Stato e secondo me bisogna davvero far crescere anche la nuova classe dirigente secondo questi principi secondo i principi di etica secondo i principi di senso di squadra perché il senso di squadra è quello che ci porta poi a raggiungimento di risultati concreti così come credo che certamente è giusto abbia detto il direttore della scuola la gala che ha parlato di evoluzione di divisione e il mondo cambia celermente ed è rinunciabile un'evoluzione sociale culturale amministrativa con una visione chiara del nostro punto di pertenza e soprattutto delle mete che si intendono raggiungere l'evento purtroppo drammatico della pandemia ha favorito il dispiegarsi di talenti di competenze votati all'interesse comune mentre la piaga delle nuove povertà ha sollecitato anche nuova solidarietà è il nostro compito valorizzare indirizzare queste forze vive del paese come grandi risorse per il nostro futuro questa crisi io credo che sia anche una grande opportunità per il nostro paese un'occasione di ripartenza dobbiamo rivedere il nostro modello sociale in una direzione è sempre più solidale perché è intollerabile tanto più oggi che qualcuno rimanga indietro l'unione europea si è dimostrata all'altezza del suo compito quando parla di una comunità di diritti sono prevalsi dei valori comuni si è scelto un approccio inclusivo solidale con lo stanziamento di ingenti risorse finalizzate a sostenere le economie dei paesi e gli sforzi di tutti i paesi membri è il tempo questo degli investimenti ma è il tempo soprattutto di un pensiero strategico che ridisegni la fisionomia del paese per i prossimi anni investimenti io vorrei specificarlo non soltanto in termini finanziari ma anche sociale culturale amministrativo abbiamo nelle nostre mani la concreta possibilità di governare il cambiamento di esserne protagonisti senza subirlo dobbiamo avere il coraggio di programmare pianificare intervenire unendo l'approccio di sintesi a indispensabili capacità operative e tattiche a essere chiamato in causa è il nostro sistema pubblico nel suo complesso occorre agire in via coordinata senza disarmonie o squilibri secondo un coerente indirizzo condiviso da tutti gli attori del sistema in questa prospettiva è fondamentale come dicevamo prima un'adeguata classe dirigente capace di leggere di interpretare e lasciatemelo dire di fare scelte assumere decisioni ma soprattutto dovremmo saper coinvolgere le migliori energie della società perché il futuro si costruisce insieme si apre davanti a noi un periodo decisivo dal quale dipenderà la costruzione del futuro delle nuove generazioni e allora un tempo non solo dei diritti ma anche dei doveri dovere di lealtà di impegno di solidarietà che tutti ad ogni livello dobbiamo avvertire avendo a cuore le sorti del paese e della comunità il ministero dell'interno le sue forze di polizia faranno la loro parte ci assumiamo la responsabilità tutti insieme di garantire che questi processi si svolgano secondo legalità prevenendo contrastando quelle che sono le infiltrazioni criminali malversazioni fenomeni corruttivi e io lo so che tutti insieme ce la faremo perché noi siamo una squadra e di questo ne abbiamo dato atto e prova in questi anni il nostro impegno ci iscriverà armonicamente come sempre dentro quella trama di azioni grandi e piccole che il paese intraprenderà per vincere anche questa sfida alla scuola quindi va il mio ringraziamento per come sa interpretare il suo ruolo di istituto di alta formazione non in modo astratto ma calandosi nella realtà del paese e delle sue urgenze e lo vediamo anche i prossimi corsi che saranno dedicati a come verranno spese le risorse del PNRR quindi questo vuol dire avere una visione ed essere al passo con i tempi ai funzionari ufficiali chiamati a frequentare il prossimo ciclo di studi va il mio più fervido augurio di buon lavoro e come prevede la formula di rito concludo dichiarando aperto l'anno accademico grazie 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 grazie